Ciao ragazzi, benvenuti benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui con Ben 10, abbiamo fatto tutta una serie di livelli e adesso siamo arrivati al Tornado, credo che dovrebbe essere l'ultimo livello ma non saprei, gioco molto breve ma non saprei, tra l'altro poi visto che noi sono usciti una marea di questi giochi, anche Ben 10 2, Omniverse, una roba del genere, scrivetemi sotto i commenti se voi li conoscevate, se magari li possiamo portare anche questi altri, non lo so, se magari portarli soltanto in live, visto che sono brevi, non lo so, vabbè, Tornado, ci buttiamo, ok, con chi partiamo, partiamo con, diamante è ancora scarso, rotodone, vite elastica, non lo stiamo più utilizzando, però vite elastica mi pare che non era molto forte, partiamo con Pungiglione, poi vediamo, anche perché qua dobbiamo parecchio volare, questo lo vedo più forte però, ah mi ricordavo che Pungiglione faceva la puzza, quindi non sarebbe neanche tanto male, vite elastica è quello che abbiamo utilizzato all'inizio, travattino, eh, che entro ne vai, allora questo l'abbiamo fregato, attenzione, devo stare attento qua al vento, eh, mannaccia, ci siamo? Vai, porca paletta, stavano già morendo, allora là sembra tipo una torre, ma non ho capito che cavolo può servire, maggiungi combo 12, è già fatto, ok, quindi abbiamo anche raggiunto l'obiettivo, ok, se riesco ad utilizzare un po' di combe, combe, combo, riesco comunque a stadire parecchio, e dai, a volte non funziona l'arma, non so perché, attenzione, attenzione, meno male che non stiesi parecchio, attenzione, 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 perfetto, almeno subisce pochi danni, vai, ce ne sta ancora un altro, ma sei impazzito, ok, scusami, vai giù, ma non lo faccio apposta, eh, Occhiamo Questo ce lo becchiamo Magari mi te lo stico Non morire Lo vorremmo potenziare prima magari Visto che me l'avete chiesto Lo potenziamo prima e poi magari lo facciamo Combattere Appena riusciamo a beccare qualcosa Che ci permette di potenziare i personaggi Ok Quanto odio Quando ci stanno questi qua piccolini Che ce l'è Scansato Grande E però me la devi fare la morsa Se no andiamo in difficoltà qua Puzza 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 Piavolo Paglia Ah uno l'avevo quasi buttato giù Misera Eh lo so che fai lo schianto C'è una puzza così Ecco bravo vedi Attacca E andiamo Ok No Ah stai salendo Stai salendo Ah vedi ma tu Non ho piano Porca misera Quindi stiamo al 9 Dobbiamo arrivare Quindi penso che ci conviene salire Sì Vado di qua però Allora vedi Vabbè Qua ci possiamo potenziare Allora Questa vita elastica Magari 1.6 Ce la posso fare Così Lo potenziamo E ce lo becchiamo un attimo Visto che l'avete detto Che non lo stiamo più utilizzando Dove stai Ecco No E vabbè però Eh Ditelo Aspetta Vai Però basta via sempre Perché credo che Di aver Che faceva Vite elastica Vediamo eh Perché se Se ne prendiamo parecchie Vite la Ah vabbè però vedi Quando salta Eh no Non è male però Perché Ah vedi ci lancia Quando però fa lo schianto Non le danneggia Anche parecchi Sei morto Sì Ok Attenzione qua Eh Ah Meno male che non c'è nessuno Lo bene è che Non è Uno che fa Dove soltanto Essere bravo A utilizzare La parata Aia Se me lo permettono Però Che con lo schianto Non andiamo male Ok Fatto fuori pure Qualcun altro Forse è meglio Utilizzare la vita Addio ragazzi Ok Questa ce la becchiamo Vai peluce Ok Piano Piano Oh 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 Mazza Quanti ce ne state ragazzi Non so se avrò recuperato Energia Attenzione Attenzione qua Che peccato Che non me ne hai fatto la mossa Vai Credo di averne buttati parecchi giù Ho sbaglio Che ce ne erano parecchi Bravo Bravo Eh Cravattino qua Ma che cia E dai Ok A questa parte Facciamo un attimo una cosa Se riuscissi a becchiare Eh si invece Vedi Ok Così Mi becco la carta Ok Trova che ora devo tornare indietro Punto Fantastico Vabbè Oh Attenzione 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 Vabbè Becchiato la cosa Ma siamo comunque morti Nel frattempo Ci riuscissi Diamante Che peccato Che ancora sei schiarso Acqua spruzzo Non me la ricordo Non giocando Spessissimo A volte Però Forse qua Potremmo andare un po' in difficoltà Perché È un po' pesante Ok Vediamo un po' ce la facciamo Così becchiamo anche l'obiettivo Oh alla grande Questo è il nostro Ok Qua siamo stati fortunati però Pensate che quasi arriva il vento E cadiamo No Bello Me lo so detto Ma sono comunque caduto È fantastico A volte impazzisco Quando faccio queste cose Ce la facciamo Vai Soltanto 1.600 Posso utilizzarle Che peccato Vabbè Fa niente Attenzione qua Oh Vai Ma pensavo che non si interrompisse Invece Vai Cerchiamo di essere rapidi In dolore Aia Aia Ok Non ce la faccio Non ce la faccio Oh Ok Oh ci stanno questi qua Che stanno rompendo le scatole Da 20 minuti Ok L'ho fatta quasi Che è successo? Che è successo? Non mi ha funzionato l'arma Oh Oh Attenzione Ok Dovrebbe essere Quasi Morti Eh L'ho visto un po' in difficoltà E qua La vita classica Ok Ok Andato Andato Dai Dai che ce la facciamo Dai che ce la facciamo C'è deciso a far salire anche l'abilità Siamo al secondo piano Siamo al secondo piano Secondo piano La paletta Quella vedo dura Ok Proviamo a cambiare Materia grigia Non so se materia grigia potrebbe aiutarci Gebra Ci siamo Oh Oh! Oh, cavolo. Allora, devo capire come cavolo fare per colpirlo, perché... Ok. Porca paletta, porca paletta. Vai. Allora, per adesso non lo sto colpendo. Ok, vai. No, ha detto R2, ma non ho capito... Ah, vedi, dovevo utilizzare, penso... Oh, no. Vai. Lo stiamo danneggiando, ok. Ok. Ma mi servirai sempre tu adesso? Aia. No! No! Mamma, mi ha tolto tantissima vita, eh. Oh, cavolo. No! Devo stare attento, eh. Oh, porca paletta. Ok, vai, dai. Rapido, rapido, rapido. Speriamo in un po' di energia, eh. Siamo fregati. Un po' di energia, l'abbiamo in cellula. Che fai adesso? Stai calmo, eh. Oh! Che chiama, l'abbiamo in cellula. Oh! Porca... Porca... Ah, sono... Morto. No! Voglio capire, un attimo... Ma questi li posso menare? No. No, non li posso menare. No, no, no. Ok. Qua non ci becca però, eh. Forse. Forse è in tilt, vai. No, spostati, spostati. Spostati. No, così non riesco a ammazzarlo. Che è? No, stai calmo, stai calmo, stai calmo. E mo'? Oh? Ok. No, pure i corti circuiti? No, eh. Aia! È scorretto questo, eh. Ok. Dai che ce la faccio. No, eh 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 no. Ma quanti ne... Che c'ha in testa? Eh... Si brucia il cervello, eh. Porca palle... Ok. Pi' forte, pi' forte. No, non l'abbiamo terminato ancora. E mo'? Ancora? Io li odio sti cosi. Ok, vado sempre con... Ok, vado sempre con... No. Sono in fin di vita? Ok, un po' di energia. Uh! Ok. Ma che c'hai del cervello? Il... Dai, dai, fatti dare un... Un cazzottino, dai. Corto circuito. Si, c'hai l'alito... Agghiacciante, tipo foglia di Calcutta. Vai, vai, vai. Dovrebbe morire adesso, no? Ok. Non è un bel aspetto, eh. Non possiamo compensare per la gravità e il momento. Non è un colisio imminente. Vai. Ah, pensavo che avessi stato un bacio. No, um... Don't do that again. We're just glad you're alright. Alright? I was, like, super awesome. I was all, like, bam! And Giant Robot Guy was, like, RAAAGH! Then he was all, like, I don't feel feelings. And I was, like, Bet you'll feel this! And then there's nothing we can do to shut you up, is there? Nope. Nope. Alright. You were saying... Where was I? Oh, yeah. So I was, like, You'll feel this! And he was, like, Boosh! Eh sì, credo che sia veramente l'ultimo livello. Vabbè, ok. Credo che sia normale che sia finito così. Gioca abbastanza breve. Non ho mai giocato, penso, a un gioco così breve. Forse perché, secondo me, da quello che ho capito ne hanno fatti tanti in successione. Voi sicuramente lo sapete meglio di me. Una serie molto carina, però sapete benissimo che io ho già portato questi giochi Cartoon Network, che difficilmente sono piaciuti. Forse questo è stato uno di quelli che più vi è piaciuto. Quello che mi ha deluso è stato quello di Adventure Time, che speravo che vi piacisse di più, invece non è andata bene. Ok, ragazzi. Penso che questa parte possa finire qui. Naturalmente come se vi è un video come sempre a tutti. Su un bel commento o un bel piaccio. Ci vediamo se vi è un po' di video. Bye! Ciao! 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 Ciao!